Aia. Princess. E' un attimo. E? E' un attimo. Aia. Io non so capire. Non c'è da capire, devi venire come non so. Mi fa battere un po' il cuore, ragazzi. Puoi andare in spiaggia? Sì. Eh? Sì. Perché? Vai, chiudi l'occhio. Perché chiudi l'occhio? Per tirarti. Ma che sei fuori? Ma che stai stupida. Perché questa cosa? Perché questa cosa? C'ha un significato. C'ha un significato. Grazie. Mi vergogno. Grazie. Ti ho portato i fiori che però simboleggiano veramente la tua rinascita. Grazie. C'è bisogno di affetto. Vieni. Grazie. Voglio che te li ricordi. Oggi tu hai detto una cosa importante, hai detto questo percorso e sono sicuro che tu hai capito tutto quello che ci siamo detti. Spero di averti aiutato in questa fase. Ma tantissimo. Ok? In questo momento. So che cosa si prova. So che cosa vuol dire ricominciare. Grazie. Grazie.